Torniamo a parlare di una scuola di formazione molto importante sia per Milano ma insomma per tutto il territorio che è Galdus www.galdus.it trovate tutto nel sito però noi stiamo parlando di un evento ed è il motivo per la quale mi sono venute a trovare Rossana Fodri direttore comunicazione progetti e Paola Missana direttore generale scuola professionale Galdus di insomma questa giornata particolare si chiama hashtag Piazza Galdus sarà il 18 di aprile questo evento in via Pompeo Leoni 2 dalle 9 e mezza alle 12 e 30 18 aprile in via Pompeo Leoni 2 sul sito suppongo che ci sia tutto giusto noi li abbiamo andati più volte sul sito anche perché uno si fotografa l'indirizzo e tutto quanto allora torniamo a questa giornata che cosa significherà per la scuola? Piazza Galdus è un evento molto importante per la nostra scuola noi abbiamo due sedi in realtà l'evento si tiene in via Pompeo Leoni ma c'è anche la sede di via Piazzetta che sarà protagonista di questo evento la scuola professionale Galdus vuole distinguersi da sempre per la qualità della didattica per l'attenzione educativa formativa dei ragazzi e degli allievi che frequentano la nostra scuola e soprattutto per questa virtuosa collaborazione tra le aziende e la scuola una collaborazione che c'è evidente 365 giorni all'anno quindi in questo modo vogliamo celebrarle quello che accadrà è che le nostre aule che sono 50 divise nelle due sedi riceveranno contributi e testimonianze da parte di aziende che per tutto l'anno collaborano con noi questa collaborazione ci permette di avere i risultati di cui parlavi prima il 93% dell'esito occupazionale e oltre 200 contratti di apprendistato attivati in regione Lombardia il panorama è vastissimo quello delle aziende che collaborano con noi da grandi aziende a artigiani super specializzati che regalano le loro perle ai nostri ragazzi quindi quella mattina le porte delle due sedi si aprono e ricevono queste testimonianze faccio solo degli esempi i nostri ragazzi del settore orificeria riceveranno contributi perle di saggezza di Pomellato e Swarovski tutto il settore della ristorazione noi abbiamo pasticceria, panificazione, cucina, sala bar eccetera riceverà dei grandi contributi di Italy Panino Giusto che sono già stati citati prima ma anche aziende come Lovit, Cappuccino, Capre Cavoli, Seven Group sono tantissime le aziende della ristorazione che collaborano con noi penso al ristorante Spazio, quello in cima al Duomo piuttosto che al Maio, quello sopra la Rinascente quindi anche posti prestigiosi comunque assolutamente sì e ristoranti del gruppo Berton che collaborano con noi e poi ci saranno svariati contributi per tutti gli altri settori il settore dell'informatica, dell'elettronica e dell'informatica gestionale abbiamo col Diretti Lombardia, con le sue app l'HR del Mandarin Hotel che è una persona squisita che ci aiuta in mille modi Armani, Digilide ecco questi sono solo alcuni dei nomi abbiamo avuto delle risposte interessanti, entusiasmanti e quindi i nostri ragazzi avranno l'opportunità di accogliere, di avere questi contributi e dopodiché saranno cento le aziende che parteciperanno a questo momento poi di celebrazione di questa nostra collaborazione un po' una festa diciamo però anche un momento magari per chi avessi intenzione adesso di scrivere i ragazzi sì, può essere prossimamente per capire i genitori che hanno i figli in seconda media potrebbero già sbirciare e vedere che cosa accade da noi perché quello a cui noi teniamo è che la persona i ragazzi che vengono da noi trovino il loro posto nel mondo del lavoro e che l'azienda trovi quello che cerca per cui questo matrimonio fa sì che ci sia un beneficio sia per i ragazzi che per l'azienda questo avviene e vogliamo dirlo certo perché i ragazzi poi possono venire formati anche in maniera specifica per l'azienda questo l'avevate raccontato nelle scorse chiacchierate mi sembra una cosa insomma molto particolare ecco perché quando si entra in un'azienda importante poi devono essere preparati ad hoc ed è quello che Galdus fa Galdus.it il sito allora ricordiamo 18 aprile in via Pompeo Leoni 2 dalle 9.30 alle 12.30 c'è qualcos'altro che volete aggiungere perché quando si parla di ragazzi dobbiamo vengono in mente guarda solo altre realtà che collaborano con noi tanto per sono Feltrinelli che ad esempio da tempo oltre a ospitare oltre a ospitare saggisti eccetera contribuisce in qualche modo alla realizzazione del nostro premio retterario perché all'interno del corso di formazione professionale c'è anche questo mi viene in mente trem che l'anno scorso per tutto l'anno ha dedicato del tempo i loro professionisti di altissimo livello per l'orientamento e l'inserimento occupazionale dei nostri ragazzi insomma abbiamo questo mondo aziendale molto variegato che ci sostiene non ultimo il pastri chef dello chef è bello per questo andranno pazzi a questo punto esatto che ha appena aperto adesso in galleria che insegna ai nostri ragazzi come stare in un luogo di quella elevatura e che ha portato l'anno scorso due gruppi di ragazzi di pasticceria a due concorsi e in entrambi i casi siamo arrivati sul podio quindi per preparare a lavorare in posti così anche la postura il modo di porsi essere adeguati in ogni contesto è quello che non il primo anno c'è altro da insegnare oltre a far da mangiare piuttosto che servire in sala perché siamo papà e Armani avete citato comunque crescere a 365 gradi come persone quello che dovrebbe fare la scuola sempre a mio avviso poi forse volevamo anche con questo momento che nasce tre anni fa volevamo in qualche modo suscitare un dibattito sull'importanza che la correlazione tra mondo del lavoro e formazione ha e un po' anche far capire sfatare certi pregiudizi legati alla formazione professionale molti poi dicono il lavoro non c'è si parla di mancanza di competenze di gap tra richieste delle imprese e formazione volevamo invece portare una prassi positiva direi direi allora ricordiamo tutto il sito galdus.it l'evento hashtag piazza galdus 18 aprile via pompeo leoni 2 dalle 9.30 alle 12.30 ringraziamo le nostre ospiti rossana fodri direttore comunicazione progetti e paola missana direttore generale scuola professionale galdus grazie davvero grazie a voi 10.55 fra poco le news